canzone del barcaiolo siamo alla pagina 29 quindi vediamo subito cosa c'è di importante da guardare prima di tutto come sistemare le due mani allora qual è la posizione delle mani noi possiamo capirlo guardando le prime note della destra e della sinistra e guardando qual è il dito che ci viene suggerito di usare per suonarle la mano destra ha come prima nota un sol e su questo sol deve mettere il dito numero 5 cioè il mignolo la mano sinistra ha un do che non è il do centrale è il do che sta più a sinistra e anche lei deve mettere il mignolo su questo do quindi posizione di partenza mignolo destro sul sol mignolo sinistro sul do quindi è la posizione numero 2 quella che noi abbiamo imparato a riconoscere come seconda posizione le due mani stanno sopra do re mi fa a questo punto guardando le note che la mano destra deve suonare vediamo che a un certo punto la mano deve fare un piccolo spostamento come faccio a capire che c'è questo spostamento semplicemente perché io vedo che questo numero cioè il numero 3 cioè il dito numero 3 deve suonare due note che sono diverse qua c'è un mi e qua c'è un fa ora se lo stesso dito deve suonare due note diverse chiaramente la mano ha bisogno di muoversi ha bisogno di spostarsi perché se si sposta un dito si sposta tutta la mano ovviamente quindi passare dal mi al fa è facile basta dopo aver suonato il mi scivolare di un posto e suonare il fa quindi si tratta solo di muovere la mano di un gradino mi fa se continuo e vado avanti vedo che in questo punto succede la stessa cosa al contrario la mano destra ritorna nella sua posizione di partenza perché perché il dito numero uno il pollice deve suonare due note diverse prima re e poi do di nuovo lo stesso ragionamento se lo stesso dito suona due note diverse vuol dire che la mano si è spostata prima il pollice suona il re e poi il do quindi la mano parte in questa posizione si sposta e poi ritorna al suo posto nel terzo rigo succede la stessa cosa in questa battuta come era già successa qui il mi è di nuovo suonato dal dito numero tre perché la mano qua è ritornata la sua posizione di partenza vuol dire che il pollice sta sul do e allora il tre sta sul mi qui e qui di nuovo io vedo che il tre è sul fa quindi di nuovo capisco che la mano si deve spostare il tre passa dal mi al fa come ha fatto prima mi fa è soltanto un piccolo spostamento la mano che scivola sopra i tasti dopo questo spostamento poche note dopo il brano finisce quindi la mano rimane in quella posizione nel secondo rigo la mano ritorna alla posizione di partenza qui nel terzo rigo no rimane com'è il brano finisce con il dito numero quattro che suona il sol infatti la mano si è spostata e sopra al sol c'è il numero quattro se il tre suona il fa il sol tocca al numero quattro c'è una nota nuova che è quella che suona il mignolo in questa posizione il la che è questa questa nota che rimaneva fuori da questa posizione quando noi abbiamo messo la mano all'inizio del brano il la non era compreso perché noi avevamo soltanto do re mi fa sol e questo la era fuori ci sono due momenti qui e qui dove la mano destra deve suonare questo la ecco perché si deve spostare perché altrimenti non avrebbe nessun dito sopra questo tasto e facendo questo movimento che con il mignolo riusciamo arrivare sopra la per poterlo suonare un'ultima cosa un ultimo piccolo simbolo che troviamo qua in fondo questo puntino con questa linea curva sopra si chiama corona ora qui sul libro viene riportata questa parola arresto in realtà arresto è il segno di una traduzione dall'inglese fatta non troppo bene questa corona oppure punto coronato a due nomi ma corona è quello che si usa quasi sempre quando sta sopra a queste note vuol dire che le note possono durare a nostro piacere queste due note questo sol e questo mi sarebbero note che devono contare fino a tre sono bianche hanno la gamba e il puntino dovrebbero contare fino a tre ma visto che sono le ultime note del brano la canzone è già finita e possiamo continuare a tenere il suono finché non svanisce fino all'ultimo istante questo piccolo simbolo ci dice sì non devi semplicemente tenere e contare fino a tre se vuoi puoi far durare la nota quanto ti pare quindi non soltanto 123 ma anche di più finché sento che ancora un pochino suona io la posso tenere a mio piacere quindi abbiamo la posizione già capita abbiamo tre spostamenti il segno della corona sull'ultima nota e non ci resta che suonare la mano sinistra non ha nessuno spostamento suona una nota per ogni battuta ma così come noi la mettiamo all'inizio rimane fino alla fine allora conto suono contando ad altavoce perché dobbiamo ricordarci anche che in queste note queste qui che sono gli ottavi le note che noi abbiamo già visto in altre occasioni unite con questa barretta sono note da un ottavo ciascuna cioè sono note da 50 centesimi queste due note devono essere suonate un po' più velocemente perché nello stesso tempo in cui noi facciamo una qualunque di queste note nere dobbiamo inserirne due di queste quindi sono il doppio più veloci di queste note qua tant'è vero che abbiamo a disposizione soltanto il tempo del nostro numero tre noi contiamo fino a tre per ciascuna battuta in questa battuta noi abbiamo uno e due i numeri che noi contiamo sono presi da questa prima nota il tre è l'ultimo numero che ci rimane serve per suonare due note insieme qui succede la stessa cosa e qui succede la stessa cosa cioè faccio un esempio per suonare mi fa sol la uno due tre uno due mentre dicevo tre mentre dicevo soltanto un numero io ho suonato due note suono dall'inizio alla fine 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, 2, 3